Be Famous Ho iniziato a 12 anni Tardi? Tardi, giocavo a tennis Eri bravo? Sette anni di tennis, ero 3-5 di classifica Perché giochi a golf? Gioca a golf perché è lo sport più bello del mondo e mi diverto tanto Il golf è uno spettacolo Handicap aggiornato? Dopo questa gara non lo so, ero meno 4 e 8 Dove giochi il tuo circolo? Modena Golf e Country Club Quanto ti alleni? Mi alleno tutti i giorni Vabbè questa la racconti perché fa scena Chi è il tuo coach? Giorgio Grillo Bravo? Molto Simpatico? Si agita? Parecchio Fai altri sport? No Pregi e difetti del tuo carattere Pregi sono determinato Difetti ogni tanto mi perdo un po' in cavolate diciamo Tipo non tirare in mezzo al green alla 18 e finire in bunker Cosa pensa la gente del tuo swing? Boh, secondo me è uno swing che rende Non sotto pressione però rende Fammelo vedere da seduto Da seduto? Scendo un po' qua e poi mani in avanti E' bello Infatti hai un finish particolare Particolare Eh sì 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 Quanto fai col ferro 7? 157 Col drive? 250 di volo 7 anche lì Sei bravo a pattare? Si me la cavo E tu vittoria in carriera? Ho vinto l'anno scorso il Gran Premio di Monticello E nel 2012 i campionati nazionali Forsum con Edoardo Torrieri E quest'anno i campionati assoluti medal Beh mica male Come giocherai fra 5 anni? Spero molto meglio in altri livelli Cosa vincerai fra 10 anni? Una gara del tour PGA o European? PGA Sei contento della Raider in Italia nel 2022? Molto contento Magari la potrei giocare Se non la giocherò lo andrò a vedere Il tuo idolo sportivo? Roger Federer Ah vedi siamo tornati nel tennis Siamo tornati al tennis Riesci a toccarti l'orecchio sinistro con la mano sinistra? Non era difficile Sì mi hai messo in difficoltà Ma c'hai pensato? Hai messo in difficoltà la mano destra? Sinistro con la mano destra Destro destra Ok adesso ci sono Con chi vorresti andare in vacanza quest'anno e dove? Con i miei amici al mare La ragazza a casa? No la ragazza può venire con gli amici anche se vuole Però se non viene ti diverti di più Di più magari no però mi diverto lo stesso Sei felice? Molto Di che signo sei? Cancro Ahia Quest'anno sai no? La fidanzata di che signo è? Non so Abbiamo finito adesso sappiamo tutto di te In 10 secondi guardando in camera Convincimi a venire a giocare a golf con te Vieni a giocare a golf con me Ti farò vedere un ottimo gioco E un gran gioco da provare Ok codice fiscale a memoria? Vcc Vcc Non me lo ricordo Vcc corto è Eh ok ci sono un po' di lettere e di numeri dopo Grazie a tutti Grazie a tutti